Buonasera, e speriamo buona serata. E' la seconda notte, notte di note, di parole, di persone, di persone che si riuniscono ancora una volta su questa spiaggia, e è la seconda volta di Osha 2009, e anche questa sera abbiamo una padrona di casa, una principessa di Lampedusa, ieri Maria Grazia Cucinotta, e questa sera è con noi Emanuela Fogliero. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie della principessa, sono molto onorata di essere la principessa di Lampedusa, fino a che non ci porta via il vento, ma è proprio Osha, che è simbolo del vento, un vento d'amore. Osha è già vento. Emanuela è arrivata con lo stesso aereo e con alcuni di noi quando abbiamo messo piede a Lampedusa, e già ieri era qui. Non so quanto hai visto di ieri, ma insomma... Ho visto? Ieri no, però oggi ho fatto un bellissimo giro con una simpatica macchinetta, dato che ci siamo perse, voi direte, non è difficile, facile Lampedusa... Come c'è un abbadante, ti sei persa. Ho l'abbadante, esatto, mi sono persa, però perdendomi ho potuto vedere e apprezzare tutte le bellezze dell'isola e ho riuscito anche a prendere il sole, quindi meglio di così.